Amici, grazie per essere intervenuti, per ascoltare e iniziare la giornata con la rassegna stampa. Oggi è il 2 agosto 2023, una giornata di mercoledì, a Fano c'è mercato in centro storico, ci saranno tante persone, il mese di agosto poi è un mese in cui la popolazione aumenta considerevolmente in tutte le spiagge del nostro territorio, quindi abbiamo una città molto viva e molto effervescente. E allora noi cominciamo come sempre la nostra rassegna stampa a partire dal santo del giorno e vediamo che oggi è un santo molto particolare, ebbene è la festa di Santa Maria degli Angeli a cui è dedicata la Basilica di Assisi e dove apparve a San Francesco che pregava nella piccola chiesetta della Porziuncola, ora contenuta in un grande enorme edificio. Ebbene San Francesco ottene dalla Madonna degli Angeli che tutti coloro che avessero pregato appunto nella piccola chiesa avrebbero ottenuto il perdono dei loro peccati. Ebbene da allora la festa di oggi, la festa di Santa Maria degli Angeli viene considerata anche come la festa del perdono di Assisi. E allora passiamo alle previsioni del tempo per iniziare convenientemente la giornata e vediamo che sulle Marche c'è il sole con qualche piccola nuvoletta, condizioni meteo stabili comunque in prevalenza su tutte le coste nell'entroterra, prevalentemente solleggiate. Temperature massime entro i 31-34 gradi, secondo appunto dalla costa e dell'entroterra, ma comunque è una giornata molto calda, la minima si è testata sui 24 gradi. I venti sulle coste spireranno da est e sud-est, mentre dall'entroterra più marcata la direzione di est. Le temperature dovrebbero essere in calo ma io non ci spererei molto. E su questo chiediamo conferma a Giovanni Dallelago della spiaggia Animalido. Buongiorno, buongiorno Giovanni, buona giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, chi è vicino a te? Vediamo un giovane, è un tuo aiutante, è un tuo operatore? Sì, siamo insieme ad Alessandro, è parte fondamentale dello staff della spiaggia e cura una parte molto importante, quella che è l'accoglienza dei turisti e l'apertura dello stabilimento. Benissimo, l'apertura dello stabilimento. Raccontaci un po' come ogni mattina questo stabilimento rinasce, si ravviva, insomma, perché poi la sera viene tutto quanto messo a posto e al mattino bisogna poi ripristinare tutte le attrezzature. Come inizi la giornata? Ogni mattina, mentre guardo l'alba, pulisco la riva. Dopo aver pulito la riva, invece, potrei fare i tavoli e usare la sabbia con l'istruttore, magari, per poi aprire i ombrelloni e guardare i box che siano ottimi. Riccardo, per quanto riguarda, chiamo un attimo alla regia. Si sente un pochino male? Senti, Giovanni, Animal Lido è una spiaggia particolare. Recentemente c'è stata una iniziativa a cui hanno partecipato diverse spiagge. Spiagge abilitate soprattutto a tutte le persone, ma anche le persone più fragili. Animal Lido era presente anche in questa situazione. Abbiamo delle sedie che possono così avvicinare le persone alla battigia, quelle che non possono camminare con le loro gambe. Abbiamo dei servizi predisposti alle persone. Animal Lido, invece, offre una possibilità agli animali. Ebbene, tutto questo aumenta la percebilità delle spiagge fanesi. E quindi tu ti sei inserito in questo sistema? Sì, diciamo che noi, oltre ad essere una spiaggia completamente accessibile, quindi sedie, job, rettini più alti, bagni, rotazione in tutti i punti fondamentali dello stabilimento, dalle docce a sotto l'ombrellone, abbiamo anche la possibilità di essere ulteriormente accessibili anche ai nostri amici a quattro zampe. Senti, diciamo bene, perché non tutti conoscono poi dove si trova Animal Lido. Dove si trova la tua spiaggia? È un po' decentrata rispetto appunto al fulcro del turismo fanese. Ci puoi spiegare come si arriva alla spiaggia di Animal Lido? Allora, la nostra concessione è al limite fra l'Arzilla e la Gibarra. Per arrivare bisogna prendere il ponte dell'Ido e attraversarlo e attraversare il ponte dell'Arzilla. Praticamente siamo in fondo alla ciclabile che poi finisce con noi, quindi è in fondo alla ciclabile dell'Arzilla. C'è una strada che costeggia, non so se è una strada carrabile o una pista ciclabile, che costeggia la ferrovia. Bisogna percorrere qualche centinaio di metri e poi si arriva ad Animal Lido. Diciamo che Animal Lido poi è limitrofa ad un'altra spiaggia interessante, quella la spiaggia dei talenti. Anche questa è una spiaggia interessante dal punto di vista sociale, quindi avete veramente una concentrazione di spiagge particolari che non fanno altro che qualificare il turismo fanese. Abbiamo questa collaborazione, vero? Scusa, non ho sentito la domanda, è partito l'audio completamente. Sì, dicevo che Animal Lido è limitrofa ad un'altra spiaggia, mi senti adesso? Sì, sì, sì. Ad un'altra spiaggia, la spiaggia dei talenti, anche questa importante dal punto di vista sociale. Quindi questa coesione, questa collaborazione, non fa altro che qualificare il turismo fanese perché lo pone alla fruibilità di tutti, senza alcuna preclusione tra chi ha un problema e chi ne ha un altro. Quindi il problema degli animali, il problema appunto anche della fruibilità, perché poi insomma un'attrezzatura turistica di una spiaggia qualificata può costare molto. Oggi il caro vita è un problema che coinvolge anche il turismo. Quindi questo vi dico, vi fa onore. Sì, infatti collaboriamo molto con le altre attività della zona, soprattutto anche con la spiaggia dei talenti, dove spesso all'occorrenza ci scambiamo anche materiali, se dobbiamo avere un'affluenza maggiore di persone che hanno necessità di particolari ausili. Comunque il problema fondamentale che abbiamo adesso in questa zona è un po' l'accessibilità, nel senso che non per quanto riguarda gli stabilimenti, ma stanno finendo, completando i lavori del nuovo argine e speriamo che per la prossima stagione di avere la possibilità di avere un accesso completamente rinnovato. Benissimo, questo lo speriamo tutti. Anche noi lo chiederemo insistentemente all'amministrazione comunale. Del resto l'accessibilità è la cosa più importante e soprattutto se ci fosse un sottopasso più vicino rispetto a quello dell'Arzilla, più carrabile, sarebbe veramente l'ottimo anche per qualificare questo tratto di spiaggia affanese. Grazie Giovanni, saluto anche Alessandro, vi auguro buona giornata. Ci risentiremo domani. Arrivederci. Apriamo i giornali oggi a partire dal Corriere Adriatico. Vediamo la pagina di Fano e si parla del fermo pesca. Il fermo pesca, sì, perché il fermo pesca è iniziato nella nostra costa da sabato scorso e durerà fino al 9 settembre. Pesca strascico ferma per un mese da parte di tutti i peschereggi che praticano questo tipo di pesca, quelli che hanno la loro attività al di là delle tre miglia dalla costa. I ristoratori sono quelli più penalizzati perché non possono avere quel pesce fresco che tutte le mattine affluisce al mercato ittico, all'ingrosso di Fano. sono costretti ad approvvigionarsi in altri mercati. San Benedetto del Tronto, per esempio, che comincerà il fermo pesca il 19 di agosto, oppure qualche crossista che ha acquistato pesce dalla Croazia, oppure anche dal Tirreno. Quindi, per quanto riguarda Fano, non rimane che l'attività della piccola pesca. Un'attività comunque che è cresciuta alquanto in questi ultimi tempi perché i grandi peschereggi sono sempre più rari, sono sempre più in disarmo. Lo stop scattato sabato. Si ricorre alle piccole imbarcazioni, ai grossisti e ai prodotti del Tirreno. Vediamo qui anche in questo articolo alcune dichiarazioni dei ristoratori fanesi. Abbiamo innanzitutto una dichiarazione da parte del mondo della pesca. Ne parla Tonino Giardini, che dice che per la pesca il fermo pesca è una risorsa, ovviamente per la ristorazione invece è un problema. Flavio Cerioni, del ristorante La Lanterna di Metauriglia, dice che a Fano è cresciuta la piccola pesca, che ci dà un'ancora di salvezza per approvvigionare i nostri ristoranti. Ne parla anche Stefano Mirisola, del ristorante Ideale Food & More, di piazza 20 Settembre. E ne parla anche Gabriele Orazzi, del ristorante Augustus. Sono ristoranti questi, a parte Ideale Food & More, che ha un menù completo di carne e di pesce, ma gli altri due sono ristoranti che basano soprattutto la loro attività su menù a base di pesce. Sono quelli un po' che ne risentono, ma ovviamente i ristoratori non stanno con le mani in mano e cercano appunto di approvvigionarsi ugualmente di buon pesce per servire, per così far fronte a tutte le esigenze dei turisti che frequentano le nostre spiagge, che ovviamente quando arrivano al mare vogliono mangiare pesce e non certo carne. E oggi comincia la festa del mare a Fano, una festa molto sentita da tutta la città, non solo dai pescatori, perché la vocazione marinara di Fano è una vocazione sia di carattere economico che di carattere turistico, di carattere vacanziero, ma di carattere anche di quel colore locale che fa ripensare al passato quando Fano si proiettava sul mare era un alleato veramente importante di Venezia e solcava il mare con tutte le rotte che andavano in Croazia, che andavano in Dalmazia, che andavano in Istria, insomma che si collegava con l'impero austro-ingarico. Alle 19.15 di oggi sul lungomare mediterraneo ci sarà un evento importante, il coro polifonico malatestiano interpreterà uno spettacolo tratto da Maria Risorta di Giulio Grimaldi. Sarà un insieme di canti, di situazioni, di atmosfere. Alle 19.15 comincia un po' il sole ad abbassarsi anche sull'orizzonte, quindi lo spettacolo sarà veramente molto bello in un'atmosfera, in una scenografia naturale di grande suggestione. E qui emergeranno dunque i canti e poi anche le movenze, i costumi, che daranno veramente un aspetto particolare a questo spettacolo, che è stato curato da Carlo Simoni. E poi ci sono tante altre iniziative, a parte la giornata di giovedì, ma venerdì, sabato e domenica, ci saranno iniziative gastronomiche, ci saranno spettacoli, incontri, ci saranno cerimonie religiose, perché la festa del mare è nata proprio per il ricordo dei caduti in mare, di coloro che hanno perso la vita tra le onde. E ovviamente il clou sarà domenica mattina, quando le 10, il nuovo Vescovo di Fano, Andrea Andreozzi, celebrerà la messa davanti al monumento dei caduti. Verranno premiati i vecchi lupi di mare, e ci sarà insomma il ricordo poi dell'uscita in mare con le barche per il getto della corona tra le onde. Ebbene, sono delle testimonianze significative, poi ovviamente ci sarà musica, concerti, ci saranno proiezioni, ci saranno incontri, insomma ci sarà quel clima di festa che attribuisce al mare una importanza che ancora Fano tiene in alta considerazione. Cambiamo, cambiamo notizia e parliamo dell'incontro politico che si è svolto l'altra sera sotto la tenza o struttura del Lido nei pressi della foce dell'Arzilla, dove una frangia del centro-sinistra si è riunita e ha così reso pubblico le sue intenzioni. Tecnologia, ambiente e sociali, temi lanciati per la Fano futura. è un'intesa che si è stabilita tra le forze politiche di Ribella, Venue Comune, Movimento 5 Stelle, Verdi e Partito Socialista. C'è un'intesa che si vuole lanciare con il centro-sinistra, in modo particolare con il civismo e con il Partito Democratico, ma al momento le parti rimangono divise. È in salita la strada che porta ad una coalizione larga composta dal centro-sinistra e al momento le due parti rimangono divise, rimangono separate, cosa che se restasse così veramente in prossimità delle elezioni politiche del 2024, sarebbe poi dura per il centro-sinistra mantenere il potere del Comune. Dall'iniziativa è giunta comunque un esplicito invito rivolto all'attuale maggioranza fanese di trovare una coesione per affrontare il centro-destra ad armi pari. Ebbene, ci sono stati tanti tanti personaggi che sono intervenuti in questo incontro. Ci sono stati Luciano Benini di Bene Comune, Tiziano Busca del Partito Socialista, poi c'è stato Francesco Panaroni del Cinque Stelle con il nuovo delegato che appunto rappresenta il partito Serafini, poi ancora Michele Mattioli di Europa Verde. Insomma, ci sono tutte queste frange diciamo così del centro-sinistra che vogliono una loro identità, vogliono un loro vogliono dare un loro contributo decisivo, diverso di discontinuità rispetto all'attuale maggioranza. E vedremo ora come risponderà il Partito Democratico. E passiamo a Cine Fortune. Proiettati in piazza i capolavori di Troisi e Sordi. Questa è un'altra iniziativa che anima la stagione culturale turistica caffanese. E' il festival di Cine Fortune, un festival che ha abbandonato la Rocca Malatestiana per giungere più alla scoperto, per coinvolgere ancor più i cittadini. Infatti, le proiezioni da stasera si svolgeranno in piazza 20 settembre, dove sarà proiettato il postino ultima interpretazione di Massimo Troisi. L'appuntamento è alle 21.15 e sarà introdotto da Anna Pavignano che è l'altar ego artistica di Troisi la quale alle 19.30 sarà alla Memo per presentare il suo romanzo Da domani mi alzo tardi. E poi ci saranno anche altre proiezioni. Per esempio non mancherà il Marchese del Grillo di Alberto Sordi e dato che abbiamo parlato di proiezioni e quindi di cinematografia possiamo parlare anche di teatro di commedie perché proprio ieri è stata presentata la stagione di prosa del teatro della fortuna. Ci sono diverse novità innanzitutto l'aumento degli spettacoli in programma che rispetto all'anno scorso passeranno da 7 a 8 e poi ci sarà anche un teatro della fortuna rinnovato in quanto attualmente sono in corso i lavori di efficientamento energetico e poi sono confermati tutti i servizi che renderanno la presenza del pubblico in teatro più agevole come quella per esempio di un servizio di siteraggio diciamo così da parte di alcuni operatori che animeranno i bambini da una parte con dei laboratori mentre i genitori potranno assistere tranquillamente alla rappresentazione in platea oppure nei palchi e poi ci sarà anche l'incontro con le compagnie il sabato precedente perché poi tutte le commedie saranno rappresentate per tre giorni venerdì sabato e domenica con una iniziativa che consentirà al pubblico di entrare meglio nello spirito e anche nel contenuto della commedia che poi verrà rappresentata sono molti gli attori molto noti che parteciperanno alla stagione fanese ve ne dico alcuni così come sono stati enunciati da Gilberto Sentini che è il direttore artistico dell'AMAT ieri presenti in conferenza stampa insieme alla presidente della fondazione teatro della fortuna Katia Amati insieme all'assessore alla cultura Cora Fattori al sindaco di Fano Massimo Seri appunto c'era ancora c'era anche Gilberto Santini il 24 il 25 il 26 novembre sarà la volta delle delle nostre anime di notte con Lella Costa mentre l'apertura è dedicata all'uomo più crudele del mondo il 20 21 e 22 ottobre con Lino Guanciale uno sguardo dal ponte di Arthur Miller con Massimo Popolizio una delle opere che verrà rappresentata nella stagione il 12 il 13 il 14 gennaio ci saranno Massimo Lopez e Tuglio Solenghi interpreti di Dove eravamo rimasti il 16 il 17 18 gennaio Back to Dance uno spettacolo di danza all'inizio di marzo un curioso accidente una commedia di Carlo Goldoni pochissimo rappresentata con Gabriele Lavia e poi ancora abbiamo Perfetta il 5 6 7 aprile con Geppi Cucciari il 19 20 e 21 aprile Amanti una commedia inedita di Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi sarà la conclusione di questa stagione a Fossombrone un episodio di cronaca abitazione svaliggiata rubano oro per 3.000 euro continuano le incursioni dei ladri fate attenzione perché questa estate abbiamo la presenza di una banda che sta furoreggiando sia nell'entroterra che nella costa quindi teniamo alta l'attenzione l'incursione questa volta è avvenuta a Isola di Fano messo tutto sotto sopra come accade sempre in queste situazioni e hanno rubato 3.000 euro di valore per quanto riguarda dei preziosi che erano custoditi appunto all'interno di questa abitazione a San Costanzo invece si combatte la presenza di piccioni che è diventata troppo invasiva continua dunque la bonifica e sono stati rimossi pensate 6,5 quintali di guano pensate che montagna di guano si era sparsa in tutto il paese va bene cambiamo pagina e passiamo a Senigallia Benedetto Gembori Affari d'oro ristoranti e gelaterie ringraziano tanti sold out a cena pienone nei bar gli operatori il turismo collegato a queste manifestazioni è veramente gli eventi sono una mansanta per tutti coloro che gestiscono bar pizzerie ristoranti che con una maggiore presenza di clienti di turisti ovviamente cercano di ripianare un po' i loro bilanci che durante le altre parti dell'anno sono un po' magri diciamo così e spesso sono in rosso quindi grazie al Gembori Senigallia sta facendo veramente degli affari d'oro ebbene per vedere la pagina di Pesaro passiamo invece al resto del Carlino dove l'attenzione viene riservata a via Fratti indietro tutta qui c'è una decisione che viene revocata da parte dell'amministrazione comunale la pista ciclabile cambia le carte in tavola e la rotonda può sfumare lo ha dichiarato l'assessore Enzo Belloni potrebbe essere troppo piccola e quindi pericolosa e quindi c'è una marcia indietro La strada d'alto rischio Siligate ecco la rotatoria questa infrastruttura necessaria la vediamo qui che viene indicata dal regista teatrale Claudio Jankowski in giro sulla panoramica questa è la rotatoria delle Siligate ieri l'inaugurazione Yolanda Filippini l'abbiamo attesa per tanti anni ha dichiarato ma non finisce qui manca il doppio attraversamento pedonale che è importante appunto per coloro che vanno a piedi e poi il cane che prende il bus sale alla fermata da solo viaggia per un'ora e raggiunge la nonna e beh questo è veramente un episodio da libro cuore lo stupefacente dragitto in autonomia di Ankh così si chiama questo animale da catabrighe fino al centro non è un cane prodigio è semplicemente un cane molto intelligente diciamo così non solo nella testa ha una specie di navigatore satellitare ma anche la capacità di capire che per raggiungere la casa della mamma della sua padrona ovvero la nonna deve prendere il tram e poi sa dove scendere quando è arrivato veramente una situazione curiosa vediamo la pagina di fano del resto del carlino ebbene si parla dei disadattati di coloro che purtroppo hanno una carenza economica a cui riesce difficile mettere insieme il pranzo con la cena la fame è un problema anche qui in titolo oggi il resto del carlino l'ultima indagine sui beni alimentari elaborata dalla Caritas rivela dati veramente sciocche aiuti in cibo a 1.605 famiglie sono tante sono veramente tante le famiglie che hanno bisogno di aiuto in tutto il territorio fanese lo scaturisce l'ultima indagine sui beni alimentari elaborata dalla Caritas diocesana da cui emerge un crescente bisogno di aiuto da parte di molte famiglie del nostro territorio un aiuto soprattutto alimentare che si traduce in una crescente fame di cibo e c'è anche una iniziativa che supplisce la chiusura della mensa di San Paterniano nel mese di agosto una iniziativa denominata Sostengo che si svolge all'interno del centro diocesano pastorale di Via Roma dove per tutto il mese di agosto si è attivata una nuova mensa con l'aiuto di tanti volontari che aiuta molte famiglie ma vedo che siamo ormai in conclusione e quindi sono costretto a chiudere i giornali questa mattina noi ci risentiamo alle 7 di domani intanto vi auguro buona giornata a chiudere